Avete ascoltato? Nacque e morì dall'almanacco di Marty Lee. E ora, fresco fresco da creda, ecco a voi il sound velutato della viere Adrian Cronaut. Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al MMM Kong! Ma sono io? Vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, da Nang me, why don't you get a rope and hang me? Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahim, è scappata! Sono le sei anti meridiane, che vorrà dire quest'anti? Anti Cristo come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ anti di Ruviano Marti da infarti? Grazie per il tuo sound velutato, ma io non sono peggio lì. Good morning Vietnam! Ma che diamine dovrebbe significare? Non lo so, secondo me significa good morning Vietnam. E chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna? Friday and the Dreamers! Oh, velocità sbagliata, velocità sbagliata. Per quelli che si stanno riprendendo da una sbaglia può anche sembrare l'ideale. Adesso lo rimettiamo come si deve, anzi sapete che vi dico, lo mandiamo più in fretta. Così magari vi da una caricatina, ok? Mettiamolo a 78 giri. I piloti lo stanno dicendo, bella questa musica, bella questa musica, bella questa musica, bella questa musica. No, niente, brutta lo stesso, ehi un momento, proviamo a fare così, mandiamola a rovescio e vediamo se migliore un po'. Oh no, vai, è in un interf, Freddy è un diavolo. Oh no, vai, è in un interf, Freddy è un diavolo. Immaginate un uomo che durante un viaggio approdi ai confini della realtà, ha lasciato Creta, è entrato nella zona smilitarizzata. Ehi un momento, cos'è questa zona smilitarizzata e che significa operazione di polizia? Forse due sbirri a Brooklyn che dicono, carina quella, un'operazione gira gliela farei. E comunque sia mi piace.